Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Quest'oggi ho l'onore di ospitare una delle due medaglie olimpiche che Livigno può vantare nella sua storia degli sport invernali, ma ovviamente anche nella storia dello sport in generale, una campionessa di short track, Mara Zini. Grazie Mara per aver accettato il mio invito. Buonasera a tutti, grazie a voi. E grazie di nuovo. Allora, è bello rivederti a Livigno dopo che ci torni quasi tutti gli anni, penso anzi, magari più volte all'anno, però da qualche tempo non abiti più qui a Livigno, ma sei? Io ormai abito in Valle d'Aosta dal 2002 e ritornare sicuramente per la scheda è un obbligo e quindi questa settimana ci si rivede sempre a Livigno e è un momento dove condivido con i miei amici, vecchi amici e soprattutto con la mia famiglia che comunque mi manca e ho piacere a venire a trovare ogni tanto. Torni a casa molto volentieri, quindi vuol dire che pratichi ormai un altro sport, i pattini, lei appesi definitivamente al chiodo quando hai interrotto la tua carriera, Mara? Sì, i pattini, anche perché è uno sport dove non si può praticare a livello amatoriale, lo puoi fare solamente agonisticamente, quindi sono appesi al chiodo. Però ho smesso di pattinare quindi nel 2008 e da allora ho iniziato comunque a praticare altri sport dove tuttora mi diverto e mi piacciono molto, che sono lo sci alpinismo d'inverno, il telemarca che ho imparato da due anni ma mi dà molte soddisfazioni ed estate mi piace comunque pedalare e quindi via con la bici da corsa per le strade valdostane e quant'altro. Che ne hai di belle salite da fare, sei un'alpina dell'esercito, quindi sei contornata ancora dal mondo dello sport e da tantissimi sportivi, che ruolo svolgi nell'ambito del gruppo sportivo dell'esercito? Sì, io sono entrata nell'esercito e ne sono grata sempre perché altrimenti nel 2004 quando sono entrata ero lì per smettere perché comunque le difficoltà erano parecchie, svolgendo uno sport, non avendo uno stipendio e quindi un ringraziamento all'esercito lo darò sempre. Una volta smessa l'attività di atleta quindi mi hanno impiegata in un ufficio, ufficio gare, quindi sono la segretaria diciamo dell'esercito e tratto comunque sempre cose sportive, tesseramenti degli atleti, iscrizioni delle gare degli atleti, affiliazioni e quant'altro. Quindi vedo spesso gli atleti che fanno parte dell'esercito, sciatori, snowboardisti, insomma tutti gli sport invernali e quindi sono sempre rimasta in un ambiente sportivo e la cosa mi fa molto piacere. Tanti colleghi di Livigno anche attualmente? Sì, ci sono diversi ragazzi di Livigno nel biatrono e nel fondo che sono stati arruolati e speriamo che ci siano comunque sempre nuovi arruolamenti anche per gli atleti di Livigno che fa molto piacere. Certo, tu l'hai detto è una grande fortuna poter praticare sport avendo le spalle coperte. Certo, è una grande fortuna perché quando arrivi a un livello altissimo e quindi vuol dire dedicare praticamente il tuo tempo tutta la giornata, mattina e pomeriggio a quello sport non puoi permetterti sicuramente di poter andare a lavorare e quindi poter entrare in un corpo militare ti dà la sicurezza e soprattutto l'aiuto e la serenità di poterti allenare senza pensare ad altro e riuscire a dare il 100% in quello che comunque fai e che ami fare. Non è stata facile all'inizio combaciare lo short track alla impossibilità di poter pattinare qui a Livigno, non c'era una pista di ghiaccio, meglio c'era pochissimi mesi all'anno, una pista naturale, ma tante volte tu e tua cugina Cate dovevate spostarvi ed arrivare fino a Borgna per allenarvi e sono dei sacrifici. Sì, infatti io ho dei bellissimi ricordi ma proprio perché ci sono state anche difficoltà e sono state superate perché comunque tutto è iniziato per gioco, nel senso che eravamo un gruppo di bambini che si pattinava al campetto di Livigno all'aperto, si giocava e poi eravamo talmente affiatati che i genitori con questa grande passione hanno creato questa società e da lì sono iniziate i vari piccoli problemi perché comunque si pattinava all'aperto a meno 20 comunque la sera, eravamo bambini e quindi le difficoltà sono iniziate già da subito. Poi successivamente, grazie comunque all'allenatrice che abbiamo avuto, Laura Calleger, che ci ha seguito parecchio e ancora ad oggi ci penso ai sacrifici che sono stati fatti anche da parte sua, non è stato facile perché come dicevi tu appunto il ghiaccio a Livigno c'era un mese o un mese e mezzo all'anno, tra l'altro ghiaccio naturale, quindi con caratteristiche totalmente diverse da quello artificiale. E quindi arrivati a un certo punto che comunque il livello nostro era avanzato abbiamo dovuto appoggiarci alla pista di Bormio per poter comunque migliorare e rimanere nei tempi che richiedeva. Il ruolino di marcia della nazionale. Sì, e quindi dopo scuola a Panino si prendeva il pulmino, si andava a Bormio a pattinare, questo tre volte a settimana, quando siamo cresciute indipendentemente si faceva autostop e si andava a allenare a Bormio. Addirittura autostop. Sì, autostop. Poi arrivata la patente finalmente potevamo gestirci come volevamo, però indubbiamente sono stati sacrifici poi ripagati con un risultato su tutti. Sì, sicuramente. Con la medaglia di Torino. La medaglia di Torino, sì, che ancora oggi a distanza di nove anni ormai ho in memoria proprio delle nitide perché sono… Scusa Mara, se ti interrompo, magari chi a casa non si ricorda bene di cosa stiamo parlando, il bronzo olimpico ottenuto dai giochi olimpici di Torino 2006 in staffetta, magari ci ricordi innanzitutto chi sono poi, chi erano le tue compagne e poi sì, tu hai ricordi le tue emozioni. Io guardo, ho la pelle d'oca. Sì, no, infatti la pelle d'oca viene sempre. Eravamo… beh, c'ero io, mia cugina Katia, Marta Capurso di Torina e la piccola Arianna Fontana. Allora piccola. Ancora adesso io la chiamo piccola perché per me è entrata in squadra e è rimasta sempre la piccola Arianna. E sì, sono ricordi veramente forti, emozioni forti, ma proprio dalla partenza perché partite da casa, io da Osta, quindi in un'ora sei al villaggio olimpico e dici mamma mia sono qua. E poi sei attorno a te persone italiane, gente che ti conosce, quindi ogni giorno emozioni diverse. E in più io, diciamo, avevo un po' di tensione perché non era… iniziavo già ad accusare dei problemini al ginocchio e quindi la mia paura era quella di non poter rendere al 100% quello che era la mia… le mie capacità. Cosa che invece poi sono riuscita a tirar fuori e quindi la staffetta sono riuscita a farla bene. Però ho una serie di tensioni, emozioni che non si possono dimenticare. Poi quando c'è stata la vittoria della medaglia davanti comunque alle persone care perché c'erano i genitori, i miei genitori, famiglie e quindi è stata un'emozione indescrivibile che ancora adesso ho la pelle d'oca. Era… è stata la centesima medaglia dei giochi olimpici invernali ed anche la prima medaglia nello storia dello short track italiano al femminile perché comunque l'Italia maschile aveva già vinto. Non era per te la prima Olimpiade perché già a Salt Lake City tu eri parte della nazionale. Sì, infatti questa è stata la mia seconda Olimpiade. La prima l'ho vissuta totalmente diversa, forse più giovane, più incosciente. Ed ero anche la titolare se vuoi perché in quegli anni ero la più forte italiana. E quindi però ero molto più tranquilla, ho gareggiato tutte le distanze, ho fatto bene perché comunque mi sono piazzata abbastanza bene ma l'ho vissuta un po' più serenamente. Torino la tensione si è fatta sentire molto e poi vabbè quando con la vittoria di questa medaglia tutto si è scaricato e tutto è andato per il meglio. È cambiata la vita da quella a bronzo olimpico? È cambiata? No, non credo. Nel senso che forse subito cambia perché non sei abituato ad avere telecamere, fotografi che ti contornano e ti chiedono e ti fanno delle domande perché comunque il nostro sport non è molto conosciuto e non siamo abituati a questo. È cambiato per i primi due o tre mesi a livello così mediatico però per il resto no, non è cambiato niente anzi. Siete state poi ricevute dal capo dello Stato che ai tempi era... Era Ciampi, sì, siamo stati a Roma da lui. Quindi in Ale è una bella esperienza. Sì, sì, una bella esperienza. Anche lì sembrava quasi il nonno ci ha accolte proprio, è stato comunque molto carino e è stato un momento affettuoso comunque con gli atleti che abbiamo avuto con lui. Accennavi, Mara, alle Olimpiadi di Solta e ai siti del 2002, avevi partecipato a tutte e tre le distanze di gara. Magari ricordiamolo e come dicevi tu eri giustamente la più forte della nazionale italiana ed arrivavi anche con un determinato obiettivo ma che poi hai raggiunto con una posizione tra le top 10. Sì, praticamente io sono sempre stata favorita nei 500 metri, quindi proprio in quella distanza sono riuscita a qualificarmi per la finale B e a conquistare l'ottavo posto nella classifica finale. Mentre nei 1500 mi ero piazzata un'undicesima e tredicesima nei 1000 metri, quindi ero più che soddisfatta. La staffetta eravamo comunque già allora molto competitive con tempi buoni in allenamento ma purtroppo la giovane età di tutte e quattro le ragazze ci ha fatto un po' prendere dal panico e non abbiamo reso quello che potevamo rendere e abbiamo conquistato la quinta piazza. Nel 2007, al termine della stagione, decidesti di smettere di appendere i pattini al chiodo ma per un motivo ben preciso? Sì, dopo le Olimpiadi, praticamente, che già accusavo qualcosina al ginocchio, ho iniziato con la stagione successiva ad avere dei seri problemi. Mi capitava spesso di trovarmi in raduno a Bormio e non poter pattinare proprio perché avevo dei dolori al ginocchio e quindi quella stagione è stata per me un calvario perché comunque non potendomi allenare al 100% ma dover comunque gareggiare e renderti conto che non sei quella che potresti essere non è stato molto bello. Quindi a fine stagione ho deciso comunque di terminare la mia carriera sportiva anche perché comunque non credo che sarei arrivata alle successive Olimpiadi e quindi poi mi hanno operata il recupero è stato un po' più lungo del previsto e ho poi deciso di abbandonare lo sport. Con ramarico? No, nessun ramarico. È stata una scelta presa con serenità e tuttora, anche da subito, ma tuttora non rimpiango assolutamente niente anzi è stata proprio una scelta presa al momento giusto ed è giusto e andava fatta. Non ti sei comunque allontanata dal mondo dello short trek in quanto lavorando a Cormaiora hai l'opportunità di seguire da vicino a volte credo gli allenamenti della Nazionale Maggiore che ha sede federale proprio a Cormaiora e recentemente sei stata richiamata all'ordine nazionale per fare da spalla tecnica al tecnico federale Bertoldi per seguire i ragazzi al campionato Juniors in Giappone. Sì, da quando la Nazionale si allena a Cormaior ho il piacere perché comunque è sempre un piacere vederli allenarsi e quindi ogni tanto dalla caserma qualche sbirciata gliela vado a fare. E da quest'anno ho avuto questa opportunità di affiancare l'allenatore responsabile della squadra Juniors con questo nuovo progetto che hanno fatto per gli junior nel senso che i migliori junior venivano convocati ad allenarsi con la squadra maggiore per un periodo di allenamento. Ed è stata una bella esperienza perché comunque erano anni che non mettevo i patini ai piedi o comunque non ero nell'ambiente e ho imparato anche tante cose perché sono cambiate molto i tipi di allenamento si cura molto più la tecnica quindi ho imparato e sto imparando nuove cose che comunque mi fa molto piacere. E poi c'è stata la trasferta dei mondiali junior dove stare al di là della balaustra comunque è stato piacevole e mi ha fatto comunque grande... Emozione. Sì, un'emozione forte o comunque una grande soddisfazione quando i ragazzi ti vengono a chiedere dei consigli o comunque cerchi di aiutarli per poter gareggiare al meglio anche perché al di fuori della balaustra è molto più semplice vedere quello che succede in pista e dare dei consigli a loro. Mara, ovviamente l'occhio tecnico rimane e i consigli, visto la tua lunga esperienza ne hai tanti da dare a questi giovani giovani figli della tecnologia li stanno ad ascoltare voi tecnici? Questa, secondo me, è una dura lotta ma non per colpa loro proprio per quello che è la società al giorno d'oggi nel senso che loro sono comunque coinvolti in tante cose che ai nostri tempi non c'erano e quindi cercare loro di trasmettere quello che provavi tu o comunque la voglia di lottare di soffrire la determinazione non è semplice però bisogna capire il metodo giusto e sicuramente poi c'è rispetto ancora spero tra allievi e maestri ai nostri tempi ovviamente c'era penso e spero ci sia ancora sì, qualcosina è cambiato perché sono un po' più spavalli però noi eravamo un po' più timorosi e paurosi però sicuramente il rispetto c'è sempre e la voglia di ascoltare e di imparare quella ce l'hanno quindi basta solo prenderli nel modo giusto bisogna capire qual è il metodo giusto per stimolarli e per cercare che loro tirano fuori il meglio di loro stessi di se stessi questo è un bel esempio anche per i professori di scuola e quant'altro Mara tu sei tornata in Giappone ed è arrivata ad Osaka nove anni dopo l'ultima tua trasferta in Giappone ti sembra cambiato? ma devo dire che già mi aveva stupito nove anni fa perché comunque il Giappone è un posto molto pulito tutti molto precisi quindi e già allora erano molto avanti tecnologicamente che avevano questi mega telefonini piccolini noi manco ce li avevamo e quindi sono cresciuti però è rimasto sempre quel bel Giappone che avevo visto dieci anni fa abbiamo già parlato con i diversi ospiti che sono intervenuti del mondo dello short track ad esempio un Michele Antonioli Elena Viviani insomma lo short track dà la possibilità di girare il mondo e questa è una grandissima fortuna secondo te qual è la o meglio qual è la trasferta che ti è rimasta più nel cuore? ma la trasferta che mi è rimasta più nel cuore forse perché ne abbiamo fatte talmente tante perché era un appuntamento fisso ogni anno per me è sempre il Canada Montreal che comunque mi è sempre piaciuto come ambiente come atmosfera e mi è rimasta nel cuore Mara suppongo che a casa tua spesso parliate di short track sei la fidanzata di uno dei più grandi patinatori della storia dello short track italiano Mirko Willermann vi capita ad andare a vedere qualche gara oppure avete un po' abbandonato l'argomento? ma in effetti da quando ho smesso io di patinare e lui faceva l'allenatore quindi ha smesso di allenare ci siamo un po' allontanati dall'ambiente e non abbiamo più frequentato o comunque visto gare a livello internazionale forse perché ci siamo appassionati per altre cose e quindi condividiamo tante altre belle esperienze che meritano anche quelle di essere condivise in questo momento quando ci sono però mondiali olimpiadi ovviamente tutti davanti al televisore perché so che tu sei amica di Arianna Fontana quindi non ti perdi una sua gara sì ecco con lei ancora ad oggi ho un'amicizia forte e le voglio un mondo di bene quindi per me seguirla in qualsiasi gara è d'obbligo anche se non può sentirmi però io da casa le faccio il tifo ed è una cosa e mi dà grandi emozioni ogni volta che la guardo anche perché comunque è una campionessa con la cima in una scuola che dire vince dai 500 ai 1500 passando per i 1000 la staffetta e c'è da dire che comunque proprio quest'anno che ho potuto vedere gli allenamenti o comunque seguire un po' anche la squadra la squadra c'è da dire che è vero che è un talento ed è ed è una campionessa ma si dà veramente da fare e tutto quello che ha se lo merita veramente tutto Mara siamo in chiusura però magari vuoi ringraziare qualcuno per ciò che ti ha dato per essere arrivata fino ad essere una medagliata di bronzo olimpica eh sì devo ringraziare tante persone a partire dal mio primo allenatore a susseguirsi di Laura Kalleger la mia famiglia che comunque mi ha sempre sopportato e mio papà è stato appassionato fin da quando ero bambina quindi mi sono sempre stati vicini il mio ragazzo Mirko Willermann che comunque nei momenti difficili lui c'era sempre la sua famiglia e ovviamente tutto lo staff tecnico che comunque mi ha fatto crescere a livello nazionale compreso l'allenatore Stelio Conti che comunque per me rimarrà sempre il migliore ti ringrazio grazie a voi e buona serata grazie di nuovo Marazzini è tutto per questa sera grazie per la cortesa attenzione vi rimando a mercoledì prossimo buona serata grazie a tutti